Il mondo delle figurine dei calciatori che oggi come ieri appassiona, grandi e piccini, uniti dal magico rito dello scambio scandito dal celebre Celò, Mi Manca, torna a Bologna con Figurine Forever, un evento che sabato 12 gennaio accoglierà appassionati da tutta Italia all'Estragon Club. Il tema di base sarà il calcio sudamericano e quindi anche l'incontro di Giorgio Comaschi sul palco sarà legato a quello, avremo alcuni ospiti e scalciatori italiani che sono stati compagni squadre di grandissimi calciatori come Maradona, Socrates e il povere Eneas che ha giocato nel Bologna. Tra le novità di quest'anno c'è l'area dimostrativa Subuteo che grazie alla collaborazione con Bologna Tigers regalerà agli appassionati la possibilità di trascorrere qualche ora tra gare ed esibizioni del club. In più avremo una piccola appendice sul calcio femminile che quest'anno ci saranno i mondiali di calcio femminile in Francia perciò faremo anche una piccola appendice sul calcio femminile. Credo che ci sarà da divertirsi, da sbizzarrirsi perché come dico io le figurine non sono sport ma sono cultura. Le collezioni più recenti non regalano certo il gusto di andare a caccia di rarità ma c'è stato un tempo in cui gli irriducibili della raccolta avevano un gran bel da fare per accaparrarsi la figurina introvabile come quella di Pizzaballa, lo storico portiere dell'Atalanta. Pizzaballa era malato quindi uscì una prima sfornata di figurine senza Pizzaballa poi quando quasi tutti avevano finito l'album il fotografo poi tornò a Bergamo a fare la foto di Pizzaballa che venne messa in produzione ma arrivò dopo, arrivò in ritardo e quindi da lì Pizzaballa è entrato nel mito come la figurina rarissima.